Pronto? Pronto? No, no, no. Mi senti il tuo da fare? Sì. Troppo. Pronto? 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 Io voglio ficcare, ma non voglio fare niente. No, no, no. Sì, eh? Senti, il tuo da fare? Pronto? 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 Io se ti lascio questo telefono adesso e tu mi dai 250 euro, io te li riporto domani, te ne do anche 280-300, tu mi ridai il telefono indietro, se io non te li porto, tu ti tieni il telefono, mi dai il massimo uno o due giorni. Io adesso esco di qua perché sono una cosa. quale c'hai? Questa è il tuo da fare? Senti, il tuo da fare? Non riesci. Non riesci. Pronto? Pronto? Sì, sì. Pronto? Pronto? La parmigiana, le olive, la braccia accesa. No, no, no. Perché dire no? Senti, il tuo da fare? Senti, il tuo da fare? Senti. Senti, il tuo da fare? Senti, il tuo da fare? Senti, il tuo da fare?